Se le premesse sono quelle che ci sono in campo oggi, dopo che l'autorità dell'energia ha fatto tutti i suoi passaggi, l'ultima del mese di marzo, aprile del 2014, credo che va nella direzione esattamente contraria, anzi un aumento. Noi chiediamo solo che una volta per tutte si finisca di usare le persone, perché noi siamo persone, le nostre imprese, le nostre famiglie come Bancomat per qualcuno che se se lo meritasse potrebbe andare bene, ma abbiamo già avuto esperienze in Italia dove si sono andati nella fattispecie energia elettrica praticamente a costo zero per trattenere queste imprese che poi a presa se ne sono andate. Le ha lasciate andare, non gli ha chiesto niente, non è così che si fa, noi restiamo qui. Grazie.